Niente, oggi un sacco di riunioni E... sì Riunioni di lavoro, 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 lavoro Questa è la giornata Non so perché sono usciti degli articoli sul fatto che io e Axe staremmo litigando Fantomatici, ma io dico, ma i giornali che pubblicano queste robe, dove cazzo le prendete le puttanate che scrivete? Cioè, è incredibile Cioè, ormai non si tratta neanche più né di giornalismo, giornalismo non si è mai trattato, ma neanche di gossip Cioè, non c'è neanche una foto, uno straccio di prova Ormai è scrivere notizie fondate sul nulla Il nulla cosa Detto questo, il sodalizio tra me e Jaxe penso che continuerà ancora per molto tempo Mi spiace per voi E... non lo so, mi spiace per voi che siete costretti a scrivere puttanate per acchiappare click Dignità zero